Giorgio De Mattè, scapo gruppo di Fratelli d'Italia al Comune dell'Aquila, la campagna elettorale per le elezioni regionali il 10 febbraio entra nel vivo, Fratelli d'Italia esprime il candidato Presidente della Regione Marco Marsilio. Ecco, iniziamo la domanda generica ma fino a un certo punto, cosa si sta muovendo? È vero che Legnini è in recupero? Che impressione avete? No, direi esattamente il contrario. Legnini pensavamo potesse far convergere su di sé, al di là del numero delle liste, delle liste più robuste dal punto di vista delle candidature. Ci siamo accorti in realtà che sono liste, per carità, tutte ottime persone, ma oggettivamente ci aspettavamo qualcosa di più. A oggi siamo, inutile negarlo, siamo diversi punti avanti, ma lo eravamo già ancora prima che venisse fuori la candidatura di Legnini e la candidatura definitiva di Marsilio. Quindi da questo punto di vista continuiamo a lavorare per portare il risultato al miglior livello possibile e con le liste che abbiamo, che oggettivamente sono liste che chiunque può andare a leggere e capirne la forza su tutto il territorio regionale. Ecco, voi di Fratelli d'Italia ovviamente appoggiate senza se e senza ma Luca Ricciuti, candidato nel Collegio dell'Aquila. Nel Collegio dell'Aquila, diciamo, nel campo del centro-destra c'è l'espressore del Consiglio Comunale e c'è anche il Vice Sindaco Guido Quintino Liris che però ha fatto un'altra scelta, insomma, uscito da Forza Italia. Sì, certo, da questo punto di vista abbiamo voluto fare delle liste competitive. È naturale che Luca Ricciuti, che è ormai in Fratelli d'Italia da molto tempo, sia un candidato su cui tutto il gruppo consigliare, ma non solo il gruppo consigliare dell'Aquila, ma l'assessore provinciale del Signore, il consigliere provinciale Tirabassi di Sulmona, e comunale, e la candidata femminile, Mariella Iommi, ex sindaco di Sulmona, che è in lista naturalmente, con la quale noi abbiamo un ottimo rapporto. Infatti la nostra campagna elettorale, perché ricordo agli elettori che questa volta si può votare per un uomo e per una donna, quindi un voto doppio, uomo-donna, noi abbiamo questo accordo con Mariella Iommi perché è giusto lavorare anche sul resto della provincia. Così come abbiamo degli ottimi rapporti che abbiamo continuato a coltivare nel corso degli anni sull'intero territorio provinciale, mi riferisco alla Marsi che è all'Alto Sangro, e quindi è una campagna elettorale importante, è una campagna elettorale che bisogna fare con molta attenzione perché tutti gli avversari vanno rispettati, però è una campagna elettorale su cui ci stiamo lavorando con molta forza e determinazione. Preoccupati di Liris in competizione con Ricciuti, i posti sono limitati? Il posto è uno, se vogliamo essere chiari e semplici, no, non siamo preoccupati, rispettiamo tutti, ma siamo molto consapevoli di fare una campagna bella, robusta, tosta per Luca Ricciuti, perché intanto Luca Ricciuti è già stato consigliere regionale, quindi ha un'esperienza già fatta, e la volta scorsa purtroppo per solo 16 voti non è riuscito ad entrare in consiglio regionale, 16 voti su 4 mila, insomma, lasciano un po' di amaro in bocca, e poi c'è un discorso importante da fare, noi purtroppo abbiamo avuto una legislatura nella quale, con tutto il rispetto per un bravo ragazzo come Pietrucci, ma non ci sono stati quei risultati che sarebbe necessario avere quando si hanno consiglieri di peso. Purtroppo non è stato così, lo constatiamo quotidianamente, abbiamo avuto poi un presidente di regione come D'Alfonso che è venuto all'Aquila, in provincia dell'Aquila, prendendo migliaia di voti, e poi è fuggito nel peggiore dei modi, come sfuggono i ladri nella notte, senza neanche terminare questa legislatura. Credo che da questo punto di vista il centrodestra avrà notevole spazio in questo caso, in provincia, in regione, e la nostra lista, è una lista estremamente competitiva, avrà, come dire, un ottimo risultato. Su questo ottimo risultato noi puntiamo fortemente su Luca Ricciuti, certo. Ecco, altra domanda importante, con lei è stato, in un passato neanche tanto, diciamo, lontano, un esponente politico dell'Udc, dell'Unione di Centro. Adesso, insomma, l'Udc, nell'occhio del ciclone, diciamo, è stata cacciata dalla coalizione per aver, insomma, candidato persone non gradite, il resto della coalizione. Ecco, da osservatore esterno, ma fino a un certo punto, cosa ne pensi dei suoi ex amici dell'Udc? Beh, insomma, non sono sorpreso, ecco, conoscendo un po' alcuni dei soggetti che hanno fatto queste operazioni. Purtroppo, ancora una volta, nell'Udc prevalgono delle logiche, diciamo, così poco chiare e comprensibile. Io adesso ho chiaramente nel cuore coloro i quali hanno subito questo problema, che sono, ad esempio, la consigliera Cosimati, la presidente del Consiglio Comunale d'Avezzano, il vice sindaco di Avezzano, Lino Cipollone, che hanno... Sono usciti dall'Udc? Sono usciti dall'Udc. Sono arrivati a dire non votati. Sì, perché è chiaro che adesso è dura da digerire, soprattutto nel momento in cui ti aspetti di essere in lista e di competere con gli altri e poi magari ti accorgi di essere, come dire, giocato su altri piani. Però è chiaro che il resto dell'Udc, sul resto delle province, sta lavorando alla grande. Hanno ottime liste su tutte le altre province, quindi è chiaro che voteranno Marsilio, come hanno già detto anche la Cosimati e anche Lino Cipollone. Loro voteranno il presidente e non faranno votare per se stessi. Quindi da questo punto di vista... Non voteranno la lista. Certo, certo. Voteranno il presidente Marsilio, quindi da questo punto di vista i voti dell'Udc, anche della provincia dell'Aguila... La situazione non è recuperabile con l'Udc? Non so questo quanto sia recuperabile, sinceramente. Vedremo la presenza di Ceisa sabato, che c'è questa manifestazione a Pescara delle liste del centro-destra. Vediamo insomma come penserà l'Udc di risolvere. Ma, ripeto, il problema è circoscritto a una parte dell'Udc della provincia dell'Aguila. Il resto delle liste dell'Udc stanno già lavorando alla grande sul resto delle province. Quindi da questo punto di vista, su Marsilio, presidente, non abbiamo problemi. Ultima domanda. È chiaro che adesso, insomma, nel Comune dell'Aquila è cambiato completamente lo scenario, è nato un nuovo gruppo, Forza Italia si è svuotata. Ebbè, non ne chiamano. C'è anche, diciamo, una conflittabilità, come anche in modo, ci ha detto, in modo virtuoso, diciamo, tra varie componenti, anche in vista delle elezioni regionali. Cosa accadrà dopo le elezioni a questo punto? Beh, naturalmente sarà necessario fare questo tagliando dell'amministrazione, che peraltro già il sindaco Biondi aveva messo in agenda. Quindi non sarà certamente una conseguenza delle elezioni regionali, perché l'assessore di Stefano, che era assessore al bilancio, era stata già revocata in precedenza. Poi c'è il deputato d'Eramo, che naturalmente lascerà questo incarico, quello di assessore all'urbanistica. E poi la necessità di fare un po' il punto su tutta l'attività amministrativa, che era già previsto. Quindi è naturale che dopo le elezioni regionali ci sarà una rimodulazione della Giunta stessa, con gli obiettivi da perseguire nel prossimo futuro, certo.